Buongiorno ragazzi, sono sempre io e oggi vi farò vedere un programma per scaricare in ultima l'avente Teogre, Bonde e Lo Spark Ora, dovete scrivere File, Crop Dovete cliccare su File, Crop, Cip, 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 Cip Dovete scrivere in Zoom Bene Ok Poi inviate Dovete cliccare su Per esempio questo A me non si può fare perché L'ho usato troppe volte Il computer si deve Come devo dire Si deve un po' aggiustare Però Io visto che tengo due computer Dovete fare così Ok Grazie Arrivederci